...di moda, io direi di fare un grande applauso, hanno aperto loro i diavoli insieme dal 1963, una seconda giovinezza, hanno accompagnato diversi personaggi indietro da un museo italiano, un inciso 45 giri, oggi nuovo a rinascita con questa grande vocalistagna, qui farei un altro grande applauso complimenti per aver applauso alla grande questo pomeriggio e mentre loro si siedono fra di voi, i diavoli verranno in sala con voi io vi spiego un attimino cosa succederà qui in questo teatro San Giovanni Gessate, allora, Voci di Moda, per chi non ha visto il grande successo di Beninzago il 6 dicembre, è un concorso che è unico nel suo genere